Io vengo da un'esperienza di vent'anni di arti marziali, di allenamento, mi piace il movimento, lo faccio per me e di conseguenza avendo all'espabile una realtà solida che è un'impresa di costruzione ci siamo detti perché non provare, perché non iniziare una sfida in un territorio che non è la grande città e quindi vanno fatti certi accorgimenti e comunque bisogna lavorare in un certo modo per attirare la gente. La filosofia di base che ci sta dentro questa struttura è il movimento, in tutti i sensi, in tutte le sue forme infatti il nome kinesis in greco vuol dire movimento, cioè qualunque tipo di movimento che va dall'allenamento in palestra, con gli attrezzi, l'allenamento corpo libero, tutti i corsi che abbiamo dalla danza, anche quello è movimento e fa stare bene le persone e poi tutti insieme le attrezzature, tecnogym, vecchie e nuove che danno un servizio molto diverso, molto vario andiamo da tutte le attrezzature, tecnogym in sala cardio fitness con attrezzature aerobiche tappeti, cardio wave, biciclette, poi l'easy line che funziona con un pistone quindi ha una resistenza medio-bassa ed è un lavoro di tonificazione aerobica poi abbiamo il kinesis che è una attrezzatura nuova e particolare a partire dal reparto danza abbiamo hip hop, ginnastica artistica, danza moderna, salsa cubana poi c'è i corsi fitness con total fitness, top circuit, corsi easy line poi abbiamo i corsi arti marziali, abbiamo kickboxing, jiu jitsu e kung fu, detto meglio wushu un servizio di campi da calcetto all'esterno aperti sempre lo staff è fatto da persone laureate senza motori quindi con una formazione universitaria e anche pratica che hanno esperienza di movimento, di rapporto con le persone per quanto cerchi di fare un lavoro a corpo libero non è mai completo invece qua hai alfa, beta, gamma e delta cavi verticali, orizzontali basse, orizzontali alti e la stazione simmetrica qui cosa fare? Non sei vincolato da nessuna parte per utilizzare sedute, pank, ma in genere si fa corpo libero l'unico vincolo sono i tuoi piedi tiri un cavo, quindi hai un carico che ti squilibri trovando il tuo centro, la tua postura giusta e la tua posizione dove hai il massimo dell'equilibrio e utilizzando il carico vai a migliorare la postura, la flessibilità e la coordinazione questo è il circuito easy line dove fai tutto il corpo e lavori in tonificazione aerobica tonificazione perché lavori, fai movimento muscolare tutto il corpo sono otto macchine dove vai a muovere gruppi muscolari diversi petto, schiena, gambe, addominali, spalle come si fa il lavoro su easy line? si va a tempo aiuta molto a lavorare con un piccolo semaforo dove il rosso dura un minuto e mezzo e col verde cambi macchine per concludere chiunque visualizza questo video e vede queste informazioni può tranquillamente venire presso di noi e avrà una settimana di prova gratuita per provare tutte le attività che ci sono dall'arte naziale, dai corsi, dalla sala 3, dal kinesi, del easy line e poi dopo decidere quello che è più vicino alle sinclinazioni e dove si diverte di più con questo vi saluto e vi aspetto grazie